Inaugurata ieri sera da Cilealia, la presenza tra gli altri del sindaco Roberto Barbagallo, la nuova aiola dedicata alla Madonna della Pace che sorge nell'omonima piazza. Soddisfazione è stata espressa dai componenti dell'Associazione Città Domani e dai residenti della zona che hanno così visto coronare un'aspirazione di lunga data. Una ricolificazione questa resa possibile grazie ai fondi del bilancio partecipato 2021 a benedire l'opera, il parroco Don Marcello Pulvirenti che ha ricordato la forte devozione alla Madonna da parte degli abitanti che nel 1975 realizzarono il monumento. Il sindaco ha poi omaggiato il simulacro della Madonna, come abbiamo visto dalle immagini, con un mazzo di fiori, mentre canti e spari d'artificio hanno posto fine alla serata.